Abramo è l'uomo che fa la grande scelta, decide di fare questo patto con Dio, cioè in sostanza dai tanti dei si passa alla scelta, che è una scelta di fiducia tosta, fanno un accordo, un contratto in sostanza Dio e Abramo, un contratto un po' da discutere perché non è un contratto paritario, nel senso che intanto Dio dice tu cambi nome, che non si è mai visto che quando si va davanti al motaio... Una piccola richiesta, ma poi ne viene una grande, questa è solo l'aperitivo. E poi gli dice vabbè tu sarai fedele con me, mi raccomando, naturalmente quando io dico una cosa tu ti metti sdraiato per terra a genuflesso, insomma non è un modo... Ma no, non dice così... No, glielo dice, per fargli capire i pesi che hanno i due individui, ma Abramo accetta. E poi gli dice, invece facciamo una firma normale, facciamo un segno di questo patto che sarà la circoncisione e su questo Abramo sicuramente avrà da uomo un po' di perplessità perché con tutti i posti dove si può fare un segno è ovvio che... Ma non si può dire, come ti hai detto tu? No, dice potremmo farlo su un'unghia, non so, perché almeno ricresce. And soon turned out, had a heart of glass.